Certi modi, certe facce, avevo il presentimento di ciò che sarebbe accaduto. Intanto le settimane passavano lente, sempre uguali. Poi le cose precipitarono. Non c'è più rilegno, hanno commesso qualche brutta azione e ne hanno incolpato lui solo. Così Andrè è stato messo in prigione. Voglio finirla, sparire! E' carica, finirla, sparire e le rondini. Quali rondini? Che cosa ne dice del mio vestito? E' elegante? Lei è desiderabile con qualunque vestito e anche più desiderabile senza niente. Eh? Monsieur Boniface, è un vestito nuovo. Oh, io me ne infischio del vestito. Si guarda forse la scatola che contiene i bonbon. Marcella, io voglio il bonbon. Oh, mamma. Voglio il bonbon. Oh, mamma. Voglio il bonbon. Ma che cosa le piglia? Ue, me si buone fasse. Ho benedetto, la prego. Ti amo, ti voglio, ti voglio, ti amo, voglio il bonbon. Ma le torni in sé, via. Questo non era nei patti. Buono, buono, benedetto. E non faccia pazzia. Oh, lo champagne le ha dato la testa. Che cos'è che mi ha dato la testa? Marcellina, la cinetta, lo champagne, il siderio. Ti voglio, ti voglio, e su. Ti voglio. Ti voglio, ti voglio.